La foglia non si muove. Vedo a terra una foglia che assomiglia a una blatta. La foglia si muove, ma è per il vento. Perché la foglia non si muove da sola e la blatta sì? Commento. Perché la foglia appartiene al regno vegetale e la blatta ai primi stadi del superiore regno animale, dove ha acquisito la mobilità.